Allora, buongiorno popolo, sto video è triste, o meglio non è triste, è la confidenza che voglio fare Ok, io sono sempre stato romanista, da quando, da che ho memoria Ho mio padre romanista, mia madre romanista, i miei nonni romanisti, mio nonno romanista, mio nonno di Roma Perché poi noi però ci siamo trasferiti, quindi stando in Puglia, mio nonno di qui non so sinceramente di squarere Perché non ci ho mai avuto niente a che fare Tutti i parenti della parte di mia madre con cui sono cresciuto e con cui ho avuto a che fare Sono tutti quanti romanisti, a memoria, non ricordo, parenti di altre squadre Tant'è che mia madre mi dice sempre che mio nonno gli diceva sempre Fidenza te con chi te pare, basta che vado nel Laziale Poi noi ci siamo trasferiti, io sono in Puglia, sono cresciuto qui, sono cresciuto tra milanisti, interisti e gioventini E c'è un problema Non so se avete notato la mia sedia Guardate, va bene, vada Questa è la cameretta dei miei figli Questa è la sedia di mio figlio E Questo è una cosa di mio figlio Praticamente avrò sulla coscienza il fatto che sono il primo della mia famiglia A interrompere la catena del romanismo Io Io che mi ricordo l'acquisto di Balbo e l'Anna Quello è il mio primo ricordo da tifoso romanista Perché mio cugino stava leggendo la gazzetta e c'era la Roma acquista Balbo e l'Anna 93 se non sbaglio Io ho un figlio Juventino Ma parecchio Juventino C'ha dieci anni Io ci ho provato Io ho comprato la maglietta da Roma appena è nato, io ho messa Io ho comprato la maglietta da Roma C'era cinque anni, sei anni Siamo visti un derby insieme Quel derby la Roma lo perse, lui ha pianto, piangeva E io ero contento che piangeva Ero distrutto per la prima Ero contento che piangeva perché era romanista E poi è andato a scuola È andato a scuola In Puglia Amici, juventini, milanisti, interisti Ma porca miseria, ma tra le tre perché Eh sì, poi nel periodo in cui lui è andato all'elementare È arrivato Cristiano Ronaldo alla Juve Lui, tutti i bambini seguivano Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, Juve, Juve Più Cristiano Ronaldo, papà Non sono più della Roma Ma la cosa più brutta Brutta, brutta È che anche quando se n'è andato Anche quando le cose sono andate male a Juve Lui è rimasto dalla Juve Non è tornato dalla Roma Io ci sto a provare Ci ho provato in tutti i modi Sì, lo so È triste Ho fallito Come padre tifoso Guardirà Non lo so Ci stanno cose peggiori È vero Ma Lasciamo un pochino il mondo reale Mettiamoci nel mondo dei tifosi Non il mondo reale Che il mondo reale Diciamo che Il tifo È una cosa che viene dopo E nel mondo reale Sono più che contento Di come sono andate le cose Ma nel mondo Dal lato tifoso È una cosa dura Giri per casa E ti trovi Il pandoro da Juve E poi diventa un salvadanaio Ti trovi il cuscino da Juve Ti trovi la maglietta di Cristiano Ronaldo Che poi gli devi comprare tu Avete capito qual è la cosa più dolorosa? La cosa più dolorosa È che gli devi comprare tu Gli puoi dire di no Papà Mi compri la sede da gamer? Va bene Per Natale te la regalo Che colore? La compriamo arancione Io avevo capito come andava la cosa La compriamo arancione La compriamo Verde La comp... No papà L'ho vista Bianca e nera Oh porca Azzuzza Ah Ma poi do te giri te giri No Io ci provo Ci provo E gli prendi questa E gli metti la sciarpa Gli metti Gli metti la sciarpa No Gli metti sta sciarpa E la metti là Gli prendi questa E gli dici Lo sai che quando mi sono comprato Sta maglietta Io stavo a Roma Lavoravo in un bar A piazza di Spagna Perché mi avevano bocciato E mi hanno mandato lì per punizione Eccetera eccetera Non me ne frega niente Poi gli prendi questa E gli dici Allora Sai che Quando Ho preso sta maglietta Questa è l'ultima maglietta De Totti Che ha indossato Con la Roma Non me ne frega niente Lo sai Che quando c'era Sta maglietta Questa maglietta La Roma E' stata la prima Ad avere una maglietta Stretta Elasticizzata Perché la storia Della Roma Porca E voi Non potete capire Non gliene frega niente Gli prendi i sciarpa Sta sciarpa L'ho comprata Gli prendi la bandiera Sta bandiera Papà L'ho comprata Nel 2001 Quando stavamo a Roma E a Roma Ha vinto lo scudetto Io ho comprato Ho comprato sta bandiera Perché ci sono andati in giro Per Roma Il casino E macchine E' stato Due settimane E' durata Ma una cosa Che non finiva più I sfottoghi I laziali Non me ne frega niente Questo era solo uno sfogo Per Non me ne frega niente Me lo sfogo Non so chi di voi Quanti di voi Che sono romanisti Da fuori Perché lo scopo del mio canale È questo Riunire i romanisti Che stanno fuori Roma E hanno E noi abbiamo cose diverse Da raccontare Perché i romanisti A Roma Bene o male Diciamo A Roma Essere romanista È diverso Da come esserlo qui Perché comunque A Roma So per la maggior parte Romanisti e laziali So sfottò E' un mondo Che si è creato Tra romanisti e laziali Invece noi qui Abbiamo tutto un altro mondo Noi qui siamo soli Praticamente Io abito in un piccolo paese Noi siamo soli Saremo due Tre Quattro Nemmeno ci incontriamo Io per iscrivermi A un Roma Club Mi sono dovuto iscrivere Ma non l'ho fatto Perché volevo iscrivermi A un Roma Club L'ho fatto perché Volevo vedermi Le partite in compagnia Cioè io per vedermi Le partite in compagnia E non essere solo Da solo Che poi mi devo vedere Roma, Juve, Giuventini Roma, Lazio No Ma da solo Roma, Inter Ah no c'è il Laziale qua Roma, Inter Con gli interisti Allora per vedermi Le partite in compagnia Con altri tifosi romanisti Con cui abbracciarci Mi sono dovuto iscrivere A un Roma Club Che sta a 50 km da qua Quindi Praticamente Chi È tifoso Della Roma Da fuori Roma Capirà Che le cose E più ti esposti da Roma Le cose sono abbastanza diverse E abbastanza più difficili Ma anche molto 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 più belle E poi ci sono questi dettagli Questi piccoli particolari Della vita Del tifoso Che Differenziano parecchio Perché è difficile Che se tu stai a Roma E c'hai un figlio Tuo figlio cresce Giuventino Eh oddio Ci deve succedere qualcosa Di particolare Invece qui è facile Perché le amicizie Perché la scuola Perché Capisce parecchio di calcio A giocare No Ma di calcio Sa tutto Ogni 3x2 Papà lo sai Che sto giocatore Del Carse Slautern Ha fatto E chi lo conosce Comunque Sa tutto Ma Ci sto a provare Io ci provo sempre Ci provo sempre C'ho mia figlia piccola La piccola Sembra Che ci stia riuscendo Almeno io Almeno quando Vede il fratello Dice Juve è merda Però Non so se Nel crescere Io ci provo Continuo a provarci Se avete qualche consiglio Datemelo Per sto video è tutto Vi ringrazio Ciao